Samuele Pizza, ex capitano e bandiera del Diareggio, è un giocatore della Lucchese. Sono le stranezze del calcio che vanno ovviamente al di là del pursano campanilismo. Pizza, oltre 300 presenze in Serie C, ruolo centrocampista e un classe 1988, e proprio in queste ore ha rescisso il contratto che lo legava ai sardi della Torres. Un rapido volo verso il continente e venerdì mattina l'incontro in sede col direttore generale Giovanni Galli per sancire un accordo che in realtà era nell'area ormai da diversi giorni. Pizza, in attesa di sbrigare le regolari formalità per il tesseramento, ma con relativo nulla osta dalla società di appartenenza, si è già aggregato al gruppo e nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento. Sulle sue tracce c'erano diverse squadre di categoria. Ricordiamo che lo scorso anno ha giocato in Serie B con la maglia dell'Avellino, ma la Lucchese ha chiuso anche per l'attaccante Francesco Forte, classe 1993, proveniente dal Forlì, ma di proprietà dell'Inter e nazionale Under 21 di Lega Pro. Difficile però che i due neacquisti possano scendere in campo martedì nella gara interna con il proprio Cenza, che di fatto il nano Galderisi sta preparando, sapendo che dovrà affidarsi ancora alla vecchia guardia.